Fontanini al primo turno prende più voti di quelli con cui poi Alberto De Toni diventa sindaco, ma come è stato ricostruito non è un caso su Udine. L'ex sindaco Fontanini ha citato la Sicilia, c'è una norma elettorale molto simile in Toscana, che non mi sembra diciamo un covo la nera toscana, viene definita la rossa toscana, quindi è una scelta anche di buon senso. È un po' particolare, devo dire la verità, questo bailam creato dall'opposizione all'urlo anche di parole più che discutibili come golpe. È chiaro che c'è un cortocircuito, non voglio entrare in casa d'altri, ma mi pare evidente anche all'interno del centro-sinistra, in particolare del PD, abbiamo visto e letto le posizioni dei governatori De Luca e Bonacini, in particolare sul terzo mandato. Uno degli aspetti negativi della legge elettorale vigente è che i progetti tante volte non erano costruiti su basi politiche, ma erano costruiti sulla delegittimazione elettorale, si intende, dell'avversario, cioè costruiamo qualsiasi coalizione, qualsiasi gruppo elettorale, qualsiasi proposta elettorale pur di non far vincere l'altro.